Bene, siamo qui questa sera al campo dei Salesiani dove i nostri ragazzi, i nostri bambini di Ancona Respet si all'erano tutti i martedì, tutti i giovedì. E questo momento lo stiamo dedicando alla presentazione del nostro nuovo mister, la nostra new entry, che non ama molto chiamarsi mister, ma bensì educatore, Maurizio Reggiani per l'appunto, a cui vogliamo rivolgere alcune domande. Innanzitutto, cosa pensi del nostro progetto, visto che comunque hai sempre giocato calcio, ti sei sempre occupato di sport, quindi nella tua vita, nella tua carriera hai attraversato altre realtà, altri progetti, eccetera. E quindi vogliamo chiederti rispetto a questo, quello che noi stiamo cercando di mettere in piedi, un po' qual è la tua visione e perché hai accettato di far parte di questo punto, di questo nostro progetto. Silvana, grazie, dato che mi hai fatto tutte queste domande, speriamo di avere tutta la sera per discutere su questo. Comunque la cosa è molto semplice, non mi chiamo mister perché noi che alleniamo i bambini dai 5 ai 10 anni non possiamo chiamarci mister, siamo degli educatori. Io ho sempre lavorato anche nel calcio, come nella vita di tutti i giorni, con i bambini, quindi so per certo che qui c'è veramente una necessità di riportare i bambini nei cortili, tra virgolette, naturalmente è l'unico modo per riportarli nei cortili, nelle parrocchie. Dato che queste non esistono più, ecco di far fare delle attività, in qualsiasi luogo, posto, abbiamo lo spazio per farlo, per lanciare i bambini appunto nell'educazione dello sport. È chiaro, è evidente che non avendo, come lo abbiamo avuto noi da piccoli, la possibilità a 5-6 anni già di avere un corpo, uno scheletro formato, qui i bambini che ormai da 10 anni, dagli studi scientifici che abbiamo fatto, è dimostrato che i bambini sono troppo sedentari, quindi la parte scheletrica e la parte tutta di reattività del corpo, dei muscoli e di tutto il resto del corpo è molto importante, non hanno avuto questa esperienza da piccoli, quindi li dobbiamo formare anche da questo punto di vista. Poi naturalmente la parte educativa, ma quella ne parleremo più avanti. Ti chiedo rispetto al progetto di Ancona Rispet, cosa pensi anche di voler creare una scuola che sia effettivamente accogliente per tutti, accessibile come diciamo sempre sia dal punto di vista economico, ma anche accessibile rispetto anche alle diversità e anche le differenze fisiche, culturali che ogni bambino, ogni persona porta con sé. Non a caso noi ci stiamo allenando in un quartiere come questo qui del Piano, che comunque è ricchissimo di diversità, di culture, e anzi molto spesso questa cosa è vista come un problema, ma noi invece vogliamo ribaltare questa idea e vorremmo pure che appunto partire dal calcio per creare uno strumento universale per tutti e che effettivamente possa creare relazioni, ponti anche di solidarietà tra le persone. Certo, sarebbe troppo bello, sarebbe anche più semplice per noi che abbiamo esperienza, abbiamo anche diplomi di allenatore, a poter andare a allenare in una squadra normale, con tutte le progrative che una squadra, una società normale ti può avere, ti può dare, ma invece prendere seriamente questa attività assolutamente come appassionati e come anche missionari di un messaggio, nel senso che lo sport forse è l'unica cosa che è rimasta al mondo, uno sport, qualsiasi tipo di attività agonistica sia, ma che possa veramente unire i ragazzi di una certa fascia di età per farli entrare nel nostro mondo, che è un mondo al di fuori delle nostre palestre, dei nostri cortili direi abbastanza esasperato.